La settimana si è aperta con una delle sfilate più attese, quella della collezione Cruise di Gucci. Perché più attese? Perché in fondo uno potrebbe dire è una sfilata tra virgolette minore. Era molto attesa perché, come sapete, Gucci è in una fase, un momento anche molto delicato di trasformazione, di rilancio. Ci sono già state due sfilate firmate dal nuovo direttore creativo Sabato De Sarno. I risultati economici tardano ad arrivare e quindi gli occhi sono puntati su questi eventi. La sfilata allestita alla Tate Modern a Londra è stata un grandissimo successo e pare che già i clienti chiedano nei negozi di comprare quello che si è visto, i fortunati a Londra e naturalmente moltissime altre persone online. Ma in realtà la collezione arriverà in ottobre, quindi bisogna aspettare un po', ma a volte l'attesa aumenta il desiderio. Le sfilate Cruise continueranno, nelle prossime settimane ci saranno quella di Max Mara a Venezia, quella di Vuitton, ce ne saranno tantissime e le racconteremo. Questa settimana invece a Milano si è aperta una mostra bellissima dedicata a Yoshi Yamamoto, che è forse lo stilista giapponese vivente più famoso. La ospita 10 Corso Como, che oltre ad essere un famoso concept store, quindi dove si comprano anche le cose, ha ristrutturato gli spazi espositivi e questa mostra di Yoshi Yamamoto dimostra insomma quanto questi spazi possono essere usati anche per eventi di risonanza internazionale. È stata anche la settimana di alcune trimestrali. L'ultima trimestrale del gruppo TODS da azienda cotata, perché settimana scorsa è stato annunciato il successo dell'offerta pubblica di acquisto, quindi il gruppo TODS lascerà la borsa, dove era dal 2000. L'ultima trimestrale in realtà certifica il rallentamento del settore del lusso, ma se vogliamo anche conferma la strategia di Diego della Valle, che ha fortemente voluto questa offerta pubblica di acquisto e quindi il delisting, perché ha sempre detto desidero essere più libero di creare strategie e di implementare strategie di medio-lungo periodo senza, potremmo dire, l'angoscia delle trimestrali. Ultimissima cosa che vi segnalo a proposito di trimestrali e a proposito di borsa è quella di Golden Goose, un altro trimestre in forte crescita per questo marchio, che nei prossimi mesi, se ne è parlato molto, dovrebbe approdare alla borsa italiana e intanto prosegue il suo percorso di co-creation, cioè è diventato famoso per le sneakers, questo marchio è un marchio italiano, ma sta diventando ancora più famoso perché propone ai clienti di personalizzare qualsiasi cosa ed è una strada che forse molti seguiranno.